5 ragazzi buonasera vorrevo sempre dirvi la stessa cosa che già una cosa che sapete bene però io ve la dico stiamo collaborando con eneba e come potete ben vedere eccolo qua tra poco in uscita resident evil remake cosa che noi abbiamo acquistato già e ho acquistato qui sopra in prevendita ma andiamo a vedere subito le offerte voglio guardate qua eccolo qua ragazzi guardate qua che prezzi voglio io purtroppo purtroppo dico purtroppo perché l'abbiamo acquistato già l'abbiamo fatto la prevendita 15 giorni fa io l'ho pagato purtroppo 10 euro in più ma guardate qua che prezzi ha ragazzi guardate qua 44 euro voglio cioè il raggio ma va di 69 euro voglio che poi hanno pagato i ragazzi che alla quale ringrazio però voglio guardate qua c'è veramente dei prezzi esclusivi su eneba ma possiamo trovare tutte di più possiamo trovare psn card alla quale abbiamo pure il nostro codice sconto che è su punto esclamativo eneba su twitch possiamo trovare tante belle carte e in più ragazzi possiamo trovare un sacco di giochi steam giochi ps4 ps5 ps3 per di più possiamo trovare veramente veramente ancora la fifa 23 con il mio codice sconto ogni persona che andiamo a portare a registrarsi guadagna subito 10 euro si può pagare con carta paypal voglio veramente su eneba si trova di tutto e di più e con il mio codice sconto potete veramente 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 trovare tanti bei costi aggiuntivi perciò voglio cosa aspettate andate su eneba per prendere tutti i giochi più buoni possibili in esclusiva resident evil che uscirà ci sta ancora resi fifa con il mio codice sconto e tanti altri giochi ps3 ps4 ps5 xbox one xbox light tutto 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 voglio su eneba